Chi sei? Che cosa vuoi? Perché hai il suo cellulare? E cosa l'hai fatto? Era lì, in strada. Si era anche cambiata per te. Ti aspettava. Ma tu non sei arrivato in tempo. Lei non doveva essere lì! Benvenuti la nome della books... Lei non doveva essere lì... Lei non doveva essere gli occhi. Ai,′ Non sai che risosare lì. Ciao amore Grazie a tutti 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 Grazie a tutti